Salve, io sono un clitoride. Quasi il 50% delle donne fra i 16 e i 19 anni non ha mai raggiunto l'orgasmo. Attorno ai 30 anni circa il 10% delle donne non conosce ancora l'orgasmo. Il 75% dei maschi raggiunge l'orgasmo durante il sesso, mentre invece solo il 29% delle donne riesce a raggiungerlo. Le donne infatti hanno bisogno della stimolazione clitoridea per raggiungere l'orgasmo. In questo momento mi stanno strofinando, sfregando, stropicciando e la donna di cui faccio parte sta godendo moltissimo. Stimolate anche voi il clitoride. Campagna di sensibilizzazione avviata dal ministero cane. È importante ricordare che il piacere parte dalla testa. Una donna va ascoltata, non basta la stimolazione clitoridea.